Ben trovati. Sono qui per mostrarvi un luogo meraviglioso. Un'autentica Camelot dell'era nucleare. Non creato da Dio Onnipotente, ma dall'ingegno umano. Diventa anche tu un eroe acquistando la tua casa in un vault della Voltec. Perché se domani capitasse il peggio, aiuterai il mondo a plasmare un radioso futuro. Ma che ho abbastanza rispetto per persone che possono scrivere naturalism, scrivere la loro world come è, la loro world come è molto buona e molto frustrante. E così, per me, ho sempre stato stato drawn a genre film making. Il suo carico che ho scritto per Hugh Jackman in The Prestige, molti anni fa, dove diceva, la loro world è solid all'anno l'anno through, fissi, buona. Chi o che è la ghia? Wow, well, Jonah said it best in our interview. The ghoul is, first and foremost, he's a bounty hunter who's been walking the wasteland for 200 years. But I'll never forget the first time I read something that Jonah kind of referenced. He's the poet Virgil, right, in Dante's Inferno. He's kind of the guide through this world forward.